Allora, commentiamo questo pareggio, un pareggio che alla fine lascia delusi anche per come è maturato, per come è andata la partita, a modo che aveva approcciato benissimo l'incontro. Delusi, cazzati anche un pochino, perché se non abbiamo il sangue dentro ci deve dispiacere, dobbiamo avere quella cosa che possiamo fare di più, possiamo essere a volte più concentrati. In alcune occasioni ci siamo un attimo spaccati, però c'è stato secondo me un approccio iniziale importante contro una squadra forte e tutte. Quindi adesso ci ricarichiamo, ci riposiamo per far sì che martedì riprendiamo la nostra strada, che è quella di affrontare la prossima partita in una maniera ancora più tosta. Il peccato maggiore qual è stato, quello di non riuscire a trovare la via del gol con queste cinque occasioni clamorose nei primi venti minuti? Sì, abbiamo avuto delle occasioni importanti in cui la potevamo mettere sotto un altro aspetto questa partita. Però, come ho detto, è un avversario forte e noi dobbiamo pensare ad essere ancora più cinici, ancora più cattivi quando abbiamo la palla, quando dobbiamo pressare. Ci sono stati alcuni momenti in cui la pressione era fatta un po' forse, anche io personalmente, potevo farla un po' più forte. Però dai, ho visto delle cose fatte bene e alla fine peccato perché poi siamo rimasti in dieci perché secondo me poteva essere un'altra partita. E ti chiedo di questo calo nella ripresa. Avete iniziato con un grande pressing anche il secondo tempo, poi negli ultimi 30 minuti hai riuscito a prendere campo. La squadra è diventata più lunga, un pochettino più spaccata. Il Crema ha preso campo e dopo si è giocato la gara alla pari. Quando invece nella prima ora era stato il Modena a fare la partita? A volte dobbiamo avere un po' più di lucidità per quanto riguarda le letture. Le letture si intende quando andare in pressione, quando essere un blocco unico per far sì che si vada in pressione e più ordinati. A volte è mancato questo. Però, come ho detto, ho visto uno spirito importante e tutti insieme, penso che sia la parola più giusta, tutti insieme. Si intende tutta la città, tutta la società. In questi momenti possiamo tirarci fuori, ma tirarci fuori perché è l'obiettivo importante e principale che è quello di vincere. Ti chiedo i sei punti di vantaggio della pergolettese. Cominciano ad essere tanti. Sarei un'ipocrita, saremo degli ipocriti a non dire che un'occhiata la si può dare. Perché la classifica, volevamo esserci noi lì, però noi andiamo avanti e pensiamo adesso solo a noi stessi e al fanfulla. I fischi alla fine? Dispiace, dispiace perché so quanto ci tengono la città, quanto ci tengono questi tifosi, però sono convinto che ci daranno solo una mano.